Sconterassino alla fine la pena in carcere. Alex Danuti, il 42enne romeno, che il 31 gennaio 2016 travolse ed uccise a San Leo Marzanne la piccola Letizia di 51 e 10 anni, ha infatti deciso di non presentare alcuna istanza per i benefici che ad oggi potrebbe ricevere. Mamma e figlia quella sera stavano camminando sul marciapiede di ritorno a casa quando lui, ubriaco alla guida della sua minicar, gli piombò addosso. Per l'uomo le manette scattarono quella stessa notte, attualmente rinchiuso nel carcere di Sollicciano, da dove appunto ha deciso di non chiedere la semilibertà o permessi per uscire. Il suo legale, l'avvocato Miriam Capoccia, parla della piena consapevolezza del suo assistito dell'errore commesso e della gravità e tragicità di quanto provocato. Per questo Danuti ha deciso di scontare in cela la sua pena sino all'ultimo giorno, che però grazie alla buona condotta potrebbe già arrivare nel 2020. Appena scontata comunque ad attendere Danuti ci sarà l'espulsione dal territorio nazionale. In primo grado l'uomo fu condannato per duplice omicidio colposo a nove anni e due mesi di carcere, sentenza poi riformata dai giudici fiorentini nel 2017. In appello la pena era stata infatti ridotta a cinque anni e due mesi, una scelta che fece gridare all'indignazione l'intera città. Resto ovviamente incolmabile il vuoto lasciato da quel dramma per Luca Fiacchini, il marito di Marzanne, padre della piccola Letizia che al momento preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione.